Ci spostiamo a Gorizia, cambiamo pagina, partono i lavori nella biblioteca statale civica per l'installazione del wifi gratuito dell'amministrazione comunale. A darne l'annuncio è il delegato del sindaco alla gestione del servizio intro e senza fili wifi del capulogo esantino Fabrizio Oretti. Sentiamo allora le sue parole. La buona notizia è che partono i lavori nella biblioteca statale civica per l'installazione del wireless traduito che fornisce l'amministrazione comunale a Gorizia. L'ho già accennato nel dicembre scorso che in breve tempo avremmo dato il via ai lavori per l'installazione alla biblioteca statale civica del servizio internet senza fili, così denominato wifi, che come amministrazione comunale forniamo a favore tutta la comunità. Per iniziare mancava soltanto l'autorizzazione da parte della sovrintendenza in beni architettonici che è pervenuta in questi giorni e così pertanto siamo pronti a dare via ai lavori che consentiranno per i tanti studenti che frequentano la biblioteca di poter navigare nelle sale principali della struttura. Ricordo che si tratta di un servizio gratuito messo in disposizione dal comune e tutto è rivolto a favore di tutta la comunità. Mi preme specificare che il servizio è entrato in vigore dal giugno 2011 e da quella data fino ad oggi abbiamo già superato le 234 mila connessioni. Se calcoliamo i primi tre mesi di questo anno abbiamo già superato le 15 mila connessioni. Questi sono dati sicuramente importanti che assieme al primato regionale di estensione del segnale testimoniano quanto i cittadini soffriscono di questa comodità che mettiamo a disposizione. Ringrazio il Sindaco per la sensibilità e la disponibilità che ha messo in campo a favore del servizio internet gratuito ma anche gli uffici tecnici del comune a cui va il mio applauso per la velocità di esecuzione. Grazie a queste sinergie abbiamo concretizzato la possibilità di fornire tanti studenti delle varie realtà scolastiche e universitarie di un servizio in più considerando poi che il web è utile anche nello studio. Stiamo già contattando la società che fisicamente installerà la rete e nel giro di un mese inizieranno i lavori. I progetti associati al wifi rimangono legati a sviluppi a favore della comunità al fine di garantire una città funzionale anche da un punto di vista multimediale. Aggiungiamo quindi un'ulteriore estensione di segnale a disposizione della nostra città in considerazione di quanto l'amministrazione comunale è sensibile a migliorare il servizio internet gratuito. Da Gorizia è tutto, Fabrizio Oreti.